Che cosa significa che sia diventata una cittadinanza? Come lo si spiega? Lo si spiega dicendo che con queste nuove tecnologie, con questi nuovi approcci, la città riesce a leggere meglio i bisogni dei cittadini. Infatti queste nuove tecnologie consentono al cittadino di esporre meglio quelli che sono i suoi bisogni, consente di accorciare le distanze dalla pubblica amministrazione che eroga i servizi di cui un giorno ha bisogno per vivere la sua esperienza con questo anno e quindi poterle leggere meglio questi bisogni e quindi è una sfida di iniziare a sviluppare il sistema. Ma perché la CUSA ha avuto la capacità di proporsi in un contesto nazionale, ha intercettato esperienze importanti, ha intercettato il progetto PRISM, essere resa disponibile nella sperimentazione di questo progetto nazionale, è un'opportunità che si accusa accolto benissimo perché c'è una capacità politica di leggere queste attività a livello nazionale, c'è anche una capacità per l'amministrazione di reciclerle e metterle in pratica. Adesso tocca ai cittadini. Adesso tocca ai cittadini assolutamente sì, partecipare a rendere il proprio territorio, un territorio con una qualità della vita migliore rispetto a quello che è il punto di partenza.